11 parti civili ammesse, 8 escluse e la decisione del Tribunale monocratico di Galtagirone nel processo ad un dirigente della regione siciliana e a 6 imprenditori accusanti di abusivismo, ridizio e violazione della legge ambientale per la costruzione a Niscemi del Moors il sistema di telecomunicazione militare statunitense. Dal fascicolo è stata stracciata la posizione di un cittadino statunitense, non un militare ma un civile, Mark Galsinger nei confronti dal quale procede l'autorità giudiziaria americana. Le parti civili ammesse sono l'associazione antimafia Rita Tria, lega ambiente, ARCI, WWF, comitato Nomuos, il professor Giuseppe Maida, circolo piazza ambiente, Codacons, codici Ollus, codici Sicilia e il comune di Niscemi. Anche la regione sarà presente come responsabile civile nel processo. Gli imputati sono l'ex dirigente dell'assessorato regionale territorio e ambiente Giovanni Arnone, il presidente della Gemmo Spa, Mauro Gemmo, e Adriana Parisi, responsabile della Lageco, società che hanno costituito l'AT Team Moors Aniscemi, vincitrice della gara del 26 aprile del 2007. Il direttore dei lavori, Giuseppe Leonardi, è titolare di tre imprese che hanno lavorato in subappalto, Concetta Valenti, della Calcestruzzi Piazza SRL, Carmelo Puglisi, della PB Costruzioni, e Maria Rita Condorelli, della CR Impianti SRL. Secondo l'accusa sostenuta dal procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, avrebbero realizzato l'impianto senza la prescritta autorizzazione assunta legittimamente o in difformità da essa ed avrebbero eseguito e facevano seguire i lavori per la realizzazione del Moors insistenti su beni paesaggistici all'interno della riserva orientata, denominata su Greta di Niscemi, in zona A di inedificabilità assoluta in un sito di interesse comunitario. Il processo è stato aggiornato al 12 gennaio del 2017.